La chiesa parrocchiale di Sant'Eustachio a Pastena ha ospitato la celebrazione in occasione della giornata del malato. Per l'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi la ricorrenza è stata l'occasione anche per inviare un messaggio di affetto e vicinanza a tutte le persone che soffrono. Hanno bisogno di particolari cure non solo di natura medica ma anche di natura diciamo umana, hanno bisogno soprattutto di uno sguardo che infonda loro vicinanza, affetto, prossimità. La giornata del malato si inserisce un po' in questa volontà di far sentire i malati che sono al centro della preoccupazione della chiesa. Per la guida della chiesa salernitana è importante che tutti capiscano la dura lezione costata anche tante vite umane imposta dal Covid. Proprio la pandemia ci ha fatto riscoprire la nostra fragilità che tentiamo un po' di oscurare. Il messaggio di speranza è che possiamo riniziare una vita normale ma senza perdere a punto di vista quelle acquisizioni che ahimè in modo anche pesante però ci sono state offerte come passo di un nuovo cammino. Intanto prosegue la campagna vaccinale in provincia. Folla delle grandi occasioni a Baronissi per l'Open Day. Quasi mille le persone che si sono messe in fila per sottoporsi alla somministrazione. Non sono mancate le polemiche per le lunghe attese ma a fine giornata l'ASL ha inoculato circa 800 dosi. Sottoporsi